Ciao ragazzi, allora oggi sostituiamo il filtro aria originale di quest'auto, carta, con un filtro BMC. Angelo che in questo momento sta sostituendo il filtro, ha aperto la scatola filtro originale, lo sta inserendo correttamente all'interno, fa sì che l'ingresso dell'area del tubo aderisca perfettamente al coperchio della scatola e quindi provvede alla chiusura. Quanto ci abbiamo messo Angelo? Due minuti? Un minuto? Cinque minuti. 5 minuti totali, si fa il cambio filtro. Ottime prestazioni, qualità e soprattutto molto molto semplice da installare.